Ciao a tutti, oggi video super richiesto sui miei capelli mi avete fatto tantissime domande in cui mi chiedevate se fossi liscia naturalmente se questo fosse il mio colore di capelli, come facessi ad avere, come faccio ad avere i capelli così luminosi, così sani veramente siete rimaste subito incuriosite dai miei capelli ma sin dall'inizio quindi finalmente ho deciso di fare questo video in cui vi spiego un po', vi parlo un po' di quelli che sono i miei capelli dunque, io ho un capello, quante volte ho detto capello, non lo so, super liscio, super sottile, proprio come i bambini infatti il mio parrucchiere quando deve farmi una piega un po' particolare si mette le mani nei capelli sono simpatica perché io non tengo la piega, come vedete oggi avevo deciso di mettermi i bigodini a caldo perché ho detto vabbè faccio il video così e quindi me li voglio fare un po' simpatici i capelli, niente quando ho iniziato il video, proprio quando ho accesso la telecamera ho fatto subito le foto perché ho detto facciamole subito perché poi ce le ho di nuovo liscio, erano belli impupati adesso poco a poco stanno, questo mossino, non lo so, questa sorta di boccolo se ne sta andando e alla fine del video sarò sicuramente liscia e quindi niente, io ho questo problema, ho il capello sottile come quello dei bambini però questo fa sì che il mio capello sia molto morbido, sono proprio molto vellutati quando vengono spazzolati infatti io dico a tutti, tocca ai miei capelli, guarda che sono però ho il capello così sottile che assorbe tutto cioè se c'è, non lo so, smog, i miei capelli si sporcano immediatamente quindi sono molto sensibili e ho la cute particolarmente, sì credo sensibile, cioè si ingrassa facilmente quindi ho un capello non esattamente facile poi in realtà le punte non sono rovinate, sono comunque abbastanza sane considerate che io taglio i capelli una volta all'anno fisso, so che si dovrebbe tagliare tipo ogni tre mesi però io li taglio una volta all'anno e li curo molto li curo molto con tanti prodotti naturali e questo perché io sono figlia di Carlita Dolce nel senso che quando Carlita Dolce ha iniziato a... non lo so, quando è nato il fenomeno Carlita Dolce quindi è spopolato su Youtube io avevo 16 anni ed ero super incuriosita pensate che io volevo fare la cosmetologa da grande cioè mi ero così tanto appassionata che volevo creare i cosmetici proprio nella vita però poi in realtà non è andata così e comunque essendo figlia di Carlita Dolce io ho solo prodotti naturali una ragazza che non mi vuole esattamente bene ha scritto in qualche commento ah guarda la uso i prodotti naturali e poi fuma io non uso prodotti naturali perché non voglio ammalarmi io non uso prodotti naturali perché... cioè uso prodotti naturali perché non voglio le doppie punte fine quindi io curo i capelli dall'esterno così con i prodotti naturali che adesso vedremo ma io curo i capelli dall'interno sapete che è da un po' che ho abbracciato una sana alimentazione che è stato veramente... cioè a parte il fatto che ieri era il mio compleanno ma grazie a tutte per gli auguri siete dolcissime comunque quindi ieri ho mangiato una merda però in questi mesi ho mangiato molto bene ho proprio fatto una corretta dieta equilibrata ho perso peso perché mangiavo male però in realtà ho proprio mangiato bene questo mi ha aiutato molto i miei capelli sono diventati molto più sani e ve le siete accorti anche voi perché proprio in questo periodo di cambiamento mi avete scritto in tante che avevo i capelli molto luminosi quindi ho anche fatto delle ricerche e ho letto che effettivamente per avere dei capelli forti, sani e luminosi è giusto mangiare il giusto apporto proteico e i giusti minerali importantissimo il ferro per i capelli e poi le vitamine quindi molta frutta, molta verdura e lo so che state dicendo mamma mia Gloria che sei pallosa perché ve l'hanno detto tutti probabilmente perché c'è tutti dicono devi mangiare bene, devi mangiare bene e sì nella Nutella c'è la frutta secca la frutta secca fa bene perché Omega 3 anche il ferro c'è nella frutta secca fa molto bene quindi forse la Nutella comunque lo so che è una palla mortale però così è purtroppo quindi proprio perché mi sono avvicinata ad una sana alimentazione sono diventata tutta che mi sento tutta questo discorso quando Natural Mojo mi ha contattata per chiedermi se avessi voglia di provare i loro prodotti e quindi puoi farveli vedere io subito ho detto sì perché io adoro l'idea di questo marchio allora a me ha contattato Enrica che è una ragazza dolcissima a cui mando un grandissimo bacio e lei mi ha chiesto se avessi voglia di provare un prodotto specifico che si chiama True Beauty che è questo e mi ha detto il True Beauty è un mix di super alimenti c'è melograno, cocco, bacche di goji, ribes, zinco è un mix di super alimenti che serve per rendere la tua pelle le tue unghie, i tuoi capelli luminosi cosa? certo che lo voglio provare poi lei è stata carinissima perché mi ha inviato anche la tazzina che vi faccio vedere per l'occasione sporca e mi ha inviato anche il famosissimo Berry Boost che conoscerete perché hanno wow perché questo l'hanno provato tutte l'ha provato pure Virginia considera e questo insomma è buono di suo assolutamente non so se voi l'avete provato comunque io sono stata super incuriosita ad True Beauty proprio perché me l'ha inviato nel periodo delle castagne che sapete è il cambio stagione in cui perdiamo milioni di capelli di solito io durante il periodo durante il cambio stagione non faccio mai tipo cose con le fialette nei capelli perché non credo molto a questi interventi dall'esterno anche se so che molte si trovano bene con determinate fiale però il fatto di poter curare aiutare i miei capelli dall'interno mi ha incuriosita da morire così ho iniziato a provare questo True Beauty l'ho provato per un mesetto infatti vi sto facendo il video in ritardo comunque già questo prodotto c'è è a casa mia da forse inizio ottobre mi ricordo comunque l'ho provato per un bel po' di tempo e la cosa che mi è piaciuta in assoluto è il fatto che diciamo che si coincilia con la mia poca voglia di bere perché ha un gusto stupendo è proprio un buon gusto dolce però un po' agrumato a me è piaciuto moltissimo il gusto di questo prodotto tant'è che parlandone con la ragazza che me l'ha inviato lei mi ha detto no ti giuro è buonissimo perché gli ho detto io non sono una ragazza costante io non riesco ad essere costante nelle cose mi ho detto vedrai che te lo berrai infatti io lo bevo sempre ogni mattina e proprio io nell'acqua che dovrei bere durante la mattinata metto un grande cucchiaio nel mio termos e bere una gran cosa e quindi non mi accorgo che sto facendo tra virgolette questa sorta di cura poi in realtà è un integratore e da quando bello questo e da quando mangio bene mi avete tutte detto che ho i capelli molto più luminosi adesso io non lo so secondo me sono super condizionata da questa enfasi però io mi sento i capelli non me ne sono caduti non me ne sono caduti eccessivamente comunque mi sono caduti però non tanti non so se è dovuto a questo però comunque io lo continuo a prendere perché mi piace proprio è buono bere così l'acqua la mattina mi piace e niente quindi io ringrazio tantissimo Enrica ringrazio tantissimo Natural Mojo e se avete voglia di comprare questo o qualsiasi altro prodotto della marca qui giù nell'info box e comunque magari ve lo scrivo anche qui io ho un codice a sconto del 15% che si chiama Gloria15 però Enrica mi ha detto che per il periodo natalizio i ragazzi di Natural Mojo stanno facendo delle confezioni di questi prodotti si chiamano Daily Green comunque vi lascio tutte le informazioni utili giù nell'info box anche il loro sito in modo tale che se siete incuriositi da questi prodotti potete andare a dare un'occhiata e adesso passiamo ad una cosa di cui siete tutte curiose cioè è il mio colore naturale? allora sì e no nel senso che ogni anno tornata dalle vacanze io ho i capelli color pannocchia perché il sole l'acqua del mare me li schiariscono da morire e diventano proprio pagliuzza cioè hanno bisogno di un attimo di non so omogeneità hanno bisogno di essere un secondo toccati e quindi è da mi sembra tre anni che ho scoperto il mondo del degradè che è praticamente una tecnica di colorazione di tutti i capelli in cui non lo so ogni ciocca viene colorata di un colore diverso quindi c'è tipo un tono più scuro un tono più chiaro un tono più dorato è il mio capello è qui sopra lui non me li tocca e mi lascia il colore che avevo poi al massimo mi tonalizza le punte non lo so comunque fa un lavoro stupendo tant'è che i capelli hanno subito movimento sono belli mi piacciono sono luminosi è tutto super naturale soprattutto quando mi crescono i capelli perché lo faccio soltanto una volta l'anno che poi è anche la volta in cui taglio i capelli quando mi crescono non si vede assolutamente che ho fatto il degradé cioè è tutto super naturale quindi questa è una cosa che faccio sempre perché mi dà un sacco di luce e mi piace e i capelli non si roviano neanche così tanto perché io ci sto proprio su io non vado dal parrucchiere spesso non faccio mai la piega dal parrucchiere perché sarebbe inutile visto che i miei capelli non reggono niente e possibilmente li riesco a fare meglio io visto che ci convivo e li conosco però comunque li curo molto io sto tipo per un mese a farmi maschere balsamo impacchi ed è nenne neutro faccio l'enne neutro una volta ogni due mesi se mi ricordo una volta al mese purtroppo non sono riuscita a trovarlo io ho una confezione che ho comprato a Natura Sica e dentro un barattolo di vetro in pratica metto due cucchiai di questa polvere insieme a yogurt balsamo limone curcuma oli metto qualsiasi cosa ho in casa è veramente una cosa allucinante mescolo tutto metto su tutti i capelli concentrandomi sulla cute perché me la tipo mi riequilibra mi riequilibra il sebo e poi l'enne neutro mi rinforza molto i capelli io lo adoro quindi lo metto su tutti i capelli metto la pellicola è sempre un preservativo sto anche due tre ore quanto tempo più tempo possibile sto con l'enne in testa meglio è poi risciacquo tutto e faccio un feto di erba che non avevo idea però almeno i capelli sono molto belli e al secondo lavaggio saranno ancora più belli soprattutto profumati detto questo a parte il mio neutro è di impacchi che non faccio mai con gli oli perché trovo che non lo so non vanno d'accordo con i miei capelli li faccio sempre con le maschere e io per gli impacchi utilizzo sempre una maschera della Omia che vi ho già fatto vedere che è questa è la maschera capelli ecobiologica all'olio di semi di lino per adesso utilizzo questa infatti è quasi finita quasi finita e la metto su tutte le lunghezze la tengo in posa pure questa un sacco di tempo più tempo sto meglio è e poi lavo i capelli queste sono le cose particolari che faccio sui miei capelli per il resto tranquillamente utilizzo shampoo e balsamo il mio shampoo preferito in assoluto che mi avete chiesto tutti è lo shampoo concentrato delicato di Biofficina Toscana è uno shampoo delicatissimo adesso io non utilizzo lo shampoo così per com'è lo diluisco vi ho già detto sono figlia di Carlita Dolce io diluisco lo shampoo in un cosetto così che era tipo una cosa del colore di mia madre poi è stata lavata io ho fatto un taglio nella punta e quindi rimetto pochissimo shampoo proprio veramente mezza unghia del mignolo di shampoo è tutta acqua sciacero dentro la doccia poi me lo spargo nei capelli e in questo modo qualsiasi shampoo sarà nettamente più delicato però questo shampoo di Biofficina Toscana è lo shampoo più delicato che io abbia mai provato ha un odore super delicato non lo so mi piace tanto soltanto che non si possono lavare i capelli sempre e solo con questo perché a lungo andare la cute ogni tanto ha bisogno di essere lavata bene poi altrimenti veramente mi si sporcherebbero subito quindi io per alternarlo se sono sempre a Palermo generalmente alterno questo faccio due shampoo di questo e poi uno shampoo con qualsiasi shampoo della Ultra Dolce di Garnier che abbia buoni inci cioè senza siliconi in questo periodo siccome sto qui e a Enna non alterno shampoo nel senso che lo alterno per forza perché a Enna ne ho un altro per adesso per Enna ho comprato lo shampoo arancio e limone di Alchemilla è uno shampoo molto buono è un po' meno delicato di quello di Biofficina ha un odore un po' più forte però lava bene fa molta schiuma sono due shampoo che fanno comunque molta schiuma forse questo più dell'altro e quindi non vi dà l'impressione di shampoo naturale tipo che ce ne sono alcuni che proprio di là mi dici che sto facendo ma sto restando con i capelli sporchi e sono due shampoo che non costano poco perché questo costa 9 euro mi sembra però sono 250 ml e quell'altro invece piccolino sono 150 ml e questo pure 9 euro però a me durano una vita perché io li diluisco quindi ne uso pochissimo e mi durano veramente tanto tempo poi li lavo solo io i capelli con questi prodotti e i miei G3 non si possono avvicinare a questi prodotti quindi mi durano tanto tempo il balsamo che più adoro in assoluto proprio è il balsamo della mia vita credo che sia la terza volta che lo ricompro è il balsamo concentrato attivo di Biofficina Toscana e non credo cioè nel senso penso che lo conoscete tutti è un balsamo super nutriente super districante fa i capelli morbidissimi a me piace da morire ne basta poco 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 mi piace tantissimo credo costi 13 euro ma dura una vita veramente è in alternativa che è molto simile ed è quello che io utilizzerò ancora non ho capito se lo utilizzo a Enna o a Palermo perché per ora me li sono portati sempre tutti perché li ho comprati da poco questi è il balsamo lavanda e eucalitto di come si chiama? di Alchemilla è molto simile a quello di Biofficina solo che questo ha un odore bello intenso c'è scritto lavanda e eucalitto ma io ci sento il rosmarino dentro mentre quello di Biofficina ha un odore molto neutro anche se a molte non piace a me non dispiace perché sa un po' di fagiolo boh a me non dispiace mi sembra un odore molto delicato questo invece è più persistente a me non piace tanto però me l'ha regalato la ragazza di a Tarnatura qui a Palermo in via Dante e quindi ovviamente ho detto sì altrimenti avrei diviso quello di Biofficina in due confezioni una l'avrei portata a N perché vi ripeto durano una vita questi balsami e poi quando esco dalla doccia e ho i capelli umidi e devo soltanto asciugarli da sempre ho utilizzato la Fito 9 sempre ho usato la Fito 9 dopodiché mi è finita non l'ho più ricomprata comunque l'altro giorno ho comprato questa crema ristrutturante per capelli rovinati trattati e secchi di Biofficina Toscana qui c'è scritto che può essere utilizzata anche da chi ha i capelli sani per prevenire le doppie punte favolosa favolosa è una cremina che può essere utilizzata anche sui capelli asciutti io vi giuro che non lo so non so se sono anche qui impressionata non lo so mi sono messa in testa sta cosa ma secondo me è favolosa cioè mi ha reso ho le punte adesso per niente secche cioè sono veramente sane mi piacciono e questa crema la sto usando tutti i giorni cioè la sera prima di andare a letto ne metto una noce nelle mani faccio così e me la spalmo sulle lunghezze concentrandomi sulle punte proprio sulle punte faccio così tiro il capello con le mani un po' sporchine di crema ogni tanto tipo una volta ogni tre mesi oppure subito dopo l'estate oppure quando mi sento i capelli secchi utilizzo la CC Cream di Collistar Biondo Vanilla è in pratica una maschera per capelli assolutamente viola che serve a smorzare l'arancio quindi io di solito la uso d'estate a fine estate quando mi sento che ho veramente i capelli sono un po' arancioni è una maschera blu leggerissima si mette su tutti i capelli e quando la sciacquate si forse ha smorzato un po' l'arancio forse il capello è luminoso ma in realtà il capello fa un odore buonissimo ed è morbido cioè davvero morbidissimo ma che c'è qua dentro non lo so buh c'è sicuramente qualcosa di magico però la utilizzo veramente una volta ogni tanto cioè così mai veramente tipo tre volte l'anno anche perché per i capelli cioè io ho dei capelli comunque lunghi e ce ne vuole un bel po' per ricoprirli tutti ma passiamo allo styling in pratica vi ho già detto i miei capelli praticamente è come se li acconcio è come se non lo facessi perché dopo tre secondi zero onde a me piacciono ovviamente i capelli mossi perché sono una liscia naturale una liscia spaghetto naturale quindi io adoro i capelli mossi mi piacerebbe avere il boccoli e niente però purtroppo il destino è bastardo lo sapete ah volevo dirvi una cosa io d'estate non asciugo i capelli penso che questo aiuti molto i miei capelli però capisco anche che c'è chi soffre di cervicale quindi non è che posso consigliarvi questa cosa o almeno non potete metterla in pratica tutti però d'estate non li asciugo mai infatti di solito sono molto più morbidi d'inverno ovviamente devo asciugarli e li asciugo con il mio nuovissimo Parlux 3500 compact super compact questo è un fond super professionale lo utilizzano tipo i migliori parrucchieri io l'ho comprato a porto lo sapete già se mi seguite assiduamente ed è un fond pazzesco fa dei capelli veramente super morbidi come usciti dal parrucchiere davvero cioè il fond fa la differenza ah ho scordato a dirmi una cosa io lavo i capelli un giorno sì un giorno no malissimo certe volte riesco a fare un giorno sì e due giorni no però siccome mi piace avere sempre i capelli puliti il giorno il secondo giorno senza cioè in cui i miei capelli per tiente sono già sporchi utilizzo lo shampoo secco i miei preferiti sono quelli di Batiste e il mio preferito in assoluto è quello tropical l'original mi fa venire il mal di testa madonna insopportabile è la versione blush quella rosa ha un odore troppo forte però comunque quello tropical invece sta di cocco è buono comunque shampoo secco sempre Batiste no Batiste con una sola T perché quello è quello che si trova in Italia e fa schifissimo lascia tutta la polvere bianca e sembra che avete la neve in testa invece questo io lo trovo su Machilaia oppure in viaggio da tutte le parti lo vendono comunque per acconciare i capelli non faccio molte cose soprattutto non li acconcio molto lo faccio soltanto diciamo una volta al mese mi concedo magari i bigodini a caldo e una volta ogni due mesi faccio non la piastra ma una cosa simile adesso ve lo faccio vedere prima con i capelli bagnati utilizzo questo termoprotettore della Dorn non credo faccia molto davvero ragazzi io non ho mai capito la funzione dei termoprotettori o se effettivamente danno un risultato ma io li utilizzo per sempre non lo utilizzo questa linea comunque di per sé secondo me non serve a niente ora magari sto dicendo una cagata a voi piace secondo me non serve a niente è soltanto molto profumata quindi quando sento puzza nei capelli me lo sprozzo un po' nelle mani poi prima ancora di asciugare i capelli uso la schioma e io utilizzo sempre una schioma di Frank Provoc comunque è anche un buon inci se non mi ricordo male l'ho lasciata giù mi sacca da morire prenderla poi mi asciugo i capelli dopodiché i miei capelli acquistano finalmente una sorta di corpo quindi magari la piega può tenere meglio quando faccio i bigodini a caldo solitamente non metto la schiuma perché di solito tipo io i capelli li ho lavati ieri oggi ho fatto i bigodini a caldo giusto per fare il video ma già è finito tutto e i bigodini a caldo che utilizzo sono questi di Remington hanno ormai qualsiasi anno non so li avevo infilati nel carrello della spesa a mio nonno tipo da media una cosa del genere sono di tre dimensioni si attacca la spina uno dei bigodini ha una cosetta rossa che diventa bianca a questo punto io posso aprirli metterli nei capelli li tengo quanto tempo voglio ovviamente sui miei capelli è meglio che restino che tutti i bigodini restino un po' più tempo del normale perché altrimenti la piega ciao quando invece voglio farli proprio boccolosi uso la Multicarl di Imetec bellissima in pratica si mette una ciocca di capelli qua dentro si arrotola ci sono tre temperature 170 190 210 gradi io di solito uso la 190 gradi comunque il capello resta qua dentro per pochissimo tempo il tempo che girate poi se ne va ed è subito acconciato questa io l'ho comprata ho visto oggi un video di Ornella che l'ho comprata praticamente allora quando l'ho presa io perché io l'ho comprata quando Cindy la Sindina face un video in collaborazione con Imetec che faceva vedere come si utilizzava io ricordo che quel video l'ho visto 40 volte davvero perché me ne sono innamorata l'ho subito comprata e mi piace tanto altrimenti se non voglio se voglio i capelli mossi e non voglio utilizzare il calore uso i bigodini da notte utilizzo di solito quelli lunghetti di cui vi ho fatto un video tantissimo tempo fa quando ancora non facevo i video con frequenza se non l'avete mai visto ve lo lascio qui in una scheda informativa ho comunque bigodini bigodini in tutte le salse per la notte sono un must have secondo me a casa bisognerebbe averli se invece non voglio fare niente ai miei capelli quindi voglio che siano lisci normali io utilizzo sempre per pettinarli una Tangle Teaser questa è nuova l'ho presa sempre il giorno in cui ho comprato shampoo e balsamo si è proprio anche un modello diverso rispetto a quello che avevo io la Tangle Teaser è una spazzola stupenda fa i capelli secondo me fa i capelli proprio luminosi perché li districa bene non li spezza io asciugo con la Tangle Teaser i capelli da bagnati che i capelli da bagnati sono molto più fragili perfetta mi scioglie tutti i nodi nel caso in cui io dovessi avere dei nodi che è facilissimo avendo i capelli sottili io sto poco a poco a spazzolarli prima dalle punte e man mano salgo è veramente una spazzola molto delicata quindi fidatevi quando c'è qualcuno che vi dice che ha una buona spazzola e poi siccome io ho i capelli strani perché sono liscessimi qua davanti e dietro invece fanno così cioè dietro c'è l'effetto beach waves quando li voglio fare tutti sistemati perché magari boh non lo so ho una cosa importante boh oppure mi va di avere i capelli sistemati utilizzo una spazzola normale che è tutta piena di capelli spero che non li vediate ed è tipo una spazzola quella che è stre in ceramica quindi si riscalda e me li acconcia immediatamente e niente ragazzi il video finisce qui spero di non avervi annoiate troppo e di avervi tenuto compagnia io vi ringrazio tantissimo ancora per tutti gli auguri che mi avete fatto per il compleanno per tutte le iscrizioni per tutti i commenti carini siete veramente belle e niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un pollice in su se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi io vi mando tanti 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 baci e noi ci vediamo presto exo exo la retra ciao 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 ciao